Il valore giunto tra le piccole aziende e le aziende grandi è che le piccole aziende seguono loro stesse, i titolari stessi seguono il pignetto, la cura della vita viene fatta dai produttori, dai titolari, quindi c'è un rapporto più stretto con la terra, perché il produttore in primis sa come è andata l'annata, in primis sa qual è il rapporto che c'è e il legame che c'è tra la materia prima e la lavorazione in cantina, è un legame molto più stretto, questa è la mia opinione rispetto alle aziende che invece acquistano vino, acquistano uva, è un rapporto diverso, è un po' più freddo da una parte e un po' più legato dall'altra, cioè il piccolo produttore riesce a trasmettere di più la passione per vino perché lo fa lui, cioè proprio come se fosse il suo figlio, quindi è un'altra cosa, forse è quello lì il valore aggiunto che hanno i piccoli produttori che non i grandi produttori, questa è la data 2010, quindi abbiamo Corvina, Corvinone, Cundinella e Molina, stessi identi con Valcio e Delma, il Pantricella Classico Superiore, la differenza ovviamente è nella lavorazione. Che ribassa? Sulle vinagce della Malacca, sì, viene fatta questa seconda lavorazione, seconda fermentazione, che apporta comunque a un vino molto più strutturato, diciamo, con maggiori difumi, un grado e mezzo in più di alcol e maggiore sfumato.